ho stuport 17 minuti di coda per perdere un game in 15 minuti ah il challenger bravo i giocatori Gian banniamo in mi ha traumatizzato la benicina ragazzi me la dovete ricordare bastardi allora 0 va bene 1 corchi va bene allora io ci sono ho un po' freddo mi sa che a breve spengo il condizionatore eeeh che famo Gianna contro Zegli fa un po' schifo trash è buono qui contro Jarmon è cali e dignitoso e chi è questa bella stellina e sei tu ciao Paolo come sei bello oggi grazie King giochiamo Aftershock Warmog chi è il tank e chi è questa bella stellina e chi è questa bella stellina K-I-I-N-G benvenuto King a-a-sa-king Blitzkamp 0 è una merda come combo un bacino dove vuoi tu grab stella anche quella una merda ciao Paolo come stai oggi ti trovo bene forse sarà la cam che ti rende un po' più saturo un bacio grazie King grazie 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 Zegli top scolè niente di my speed no non posso prenderla perché altrimenti la Warmog non si completa ci facciamo Warmog primo item con questo più 2 fai la Warmog a livello 10 trash forte contro Joe Harvan contro Agon bene in giunga siamo dignitos contro Nautilus dignitos contro Ash Barus forte con Nuno forte con Jax forte con Ash grazie a tutti bene in giunga Summoner's Rift minchia minchia la è il bastardo da che labio minchia minchia Trash fortissimo non cresco perché non lo usi più Ma mi piace molto contro Jarvan, Trash Mi piace contro campioni immobili Mi piace che in scuola abbiamo crowd control Abbiamo un po' tutto di questo Prendo Trash Bro, ma dove cazzo va? Bel trade Voleva addirittura con l'Aid No No Allora, Varus è morto Ma non ci credo che invada impossibile, non è stupido Oh, c'è chi l'abbia? 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 Uh, c'è chi l'abbia? Dov'è chi l'abbia? era come un quadratus ma io devo regolare poi probabilmente vorrei andare a pushare quella wave no 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 regolano io regolò pure c'è sempre scarpe cooldown ad action pink ricaricabili qui c'è l'amico sai che tipo io gioco va bene Non muore Non c'ho mano Vaffanculo Sì abbiamo avuto troppo male al Drake Vabbè Facciamo color action pink Non c'è un'altra Non c'è un'altra Ah, mia obra è super questo, tracciate. Mi faccio Warmo cadet Incredibile Che deve essere ancora Jarlon bot Muore Non è neanche così male La Wavy la vorrei frizzare Ma non so se effettiva Ma non so se effettiva Ma non so se effettiva Non so se effettiva Qu'è c'è jarum? Qu'è c'è jarum? Qu'è c'è jarum? Aspire split 짱 Grazie a tutti. Un po' feels bad, ma alla fine è meglio. Ma poi non ho capito perché la mia non ha stoppato... Non abbia stoppato Jarvan. Stopp, vinciamo. Lui muore. Ma Straft è superiore, ragazzi. Sì. 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 Giaxon armoro, questo deve avere un po' Voglio l'assist Asch è cadente Molto bene Forse mi ha dato due di assist addirittura Non dovrebbe ammazzarmi Non è strato Ma sei arrivabile Però c'è tutto C'è flashback Tu c'hai il TP? No Che sono pure mid lane Non è inutile giocare mid lane Giochiamo per bot Anzi, prima prendiamo division di Jarvan Giochiamo per l'eralal probabilmente Questa è un'altra 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 Questa è una molto meglio la vision peccato si è il buonissimo io ho la warm in base ma mi sa che non è a livello massimo no mi servirebbe almeno un altro item qui muore credo muore uguale? no mamma mia faker cazzo quella è un po' greedy non mi servirebbe non mi servirebbe non mi servirebbe io ho parlo due non mi servirebbe non mi servirebbe le darmi Grazie a tutti. Grazie. Potremmo giocare per bot? Che team succulento! La tua giungla non è più la tua giungla. Grazie a tutti! Hai visto che abbezzi il problema? Qua trascia la forza. C'è una lettura onorata, what the fuck? Questo pick non ti valorizza. Era un pick per counter-regge Arvan, mi piaceva contro Nautorus, mi piaceva contro loro, mi piaceva con il mio team. Penso fosse proprio perfetto per fitati in comp qua. Grazie. 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 Grazie.